Allora, vediamo un attimo, che ricarico. Ok, siamo live. Ciao a tutti, io sono Mia Nucca Tenare dell'Associazione Culturale Emilio Doc, con me oggi Cecilia, mia collega dell'Associazione, e Roberta Cacciatore, artista e ceramista, che avrebbe dovuto tenere insieme a noi un laboratorio di ceramica fisico per far fare in modo che i partecipanti che erano interessati avessero modo di creare delle piccole opere date, ma vista la situazione abbiamo deciso di ricalibrarci sull'online. Abbiamo così deciso di avere con noi comunque Roberta, perché ci raccontasse di lei e di suo percorso, e per l'occasione ci ha preparato anche un video. Mi passo un attimo la parola a lei e poi possiamo iniziare col video. Ciao a tutti, tutte, non so se la maggioranza di solito è femminile. Sì, allora, dovevamo, sono stata invitata da Cecilia e Mianù, appunto da Flash Giovani, da Banchi di Prova, da questa serie di incontri, e avrei dovuto appunto come ha detto Mianù tenere questo workshop in carne ed ossa, ma così purtroppo non è potuto essere. Quindi abbiamo cercato appunto di trovare un'alternativa, mi sembra una buona alternativa. Io ho cercato appunto di fare un video, non è facilissimo, ve lo dico già, cercare di inquadrare bene tutti i percorsi, tutte le varie tecniche della ceramica dal video. Però con un po' di fatica ho provato a fare questo video e vi mostrerò tutte le fasi per realizzare inizialmente un basetto con la tecnica del colombino, che diciamo che è la prima, la tecnica di... a fare la modellazione... Ci senti Roby? Poi ovviamente... Si può... Forse se avete domande, sicuramente le avrete. Non so se c'è qualche problema di internet. Ah, può essere. Aspettiamo un attimo. Roby, ci senti? I soliti problemi della diretta, ma tanto ormai siamo abituati, è normale che succeda, quindi va bene così. Ci sono? Ci senti? Sì, vai, vai. Ora sì. Non mi affatto, sicuramente scusate, ma la connessione non è delle migliori purtroppo. Non ti preoccupare, ci stavi parlando della tecnica del colombino. Ah, ok, sì. Quindi vi farò vedere nel video la tecnica del colombino, che è la tecnica con cui generalmente si parte per realizzare i vasetti di ceramica. ho cercato appunto di sintetizzare, perché ovviamente il video durerà una ventina di minuti, ho cercato di sintetizzare il più possibile, per questo vi chiedo, qualsiasi domanda potete scriverla nei commenti, giusto? Grazie. Sì, sì. Ok, perché sicuramente ci saranno delle domande, perché la tecnica della ceramica è una cosa che non è semplicissima. io quando ho iniziato avevo 600 miliardi di domande, tuttora ho 600 miliardi di domande, perché è un mondo proprio super, super ricco. Quindi, diciamo che umilmente vi mostrerò come si inizia a fare un vasetto. Ok, perfetto. Allora, possiamo far partire il video? Ceci, ci pensi tu? Sì, ditemi se si sente l'audio. Ok. Ciao a tutti! Questa è la parte di cui abbiamo già parlato, quindi vi avrò fatto vedere quello che faccio. Ok. Grazie. Grazie. con il mattarello. Non tantissimo, perché la base deve essere un po' cicciotella, perché sarà appunto, deve sostenere tutto il vaso. Poi prendiamo un bicchiere, un vasetto di yogurt, quello che volete, dipende da quanto, insomma, volete che sia grande la circonferenza della base del vaso. Noi faremo un vasetto piccolo oggi, quindi prendiamo questa parte del bicchiere. piano piano, facciamo più giri con questo strumento utilissimo soprattutto per la tecnica di decorazione che andremo a fare, che è l'ingobbio graffiato. Fino a che non arriviamo... Questo a me mi si è rotto, ma niente. Ok, fino a che non arriviamo appunto alla fine. Ecco, come vedete, la base deve essere bella spessa. Questa adesso la possiamo anche mettere qua. Adesso andiamo a vedere come si fanno i colombini. I colombini io consiglio sempre di prepararli prima e tenerli in un panno umido. Si prende un pezzetto, si fa questa cosa con le mani da verticale, così si fa e comincia a fare questo serpentello. Poi si mette sul piano. Mi raccomando, il piano deve essere sempre di legno grezzo. non va bene la plastica, non vanno bene i legni, quelli lucidati, deve essere il legno grezzo perché deve assorbire. E andiamo a fare questo movimento. Le mani devono essere chiuse, cioè le dita devono essere chiuse e non aperte e c'è proprio questa velocità. Non deve essere né troppo veloce così, né troppo lento. deve essere un ritmo proprio ritmato. Il colombino deve essere, diciamo, della misura di un dito. Quando siete soddisfatti, lo mettete dentro il panno umido perché quando l'argilla si secca non è bello, ecco. e non è bello. non vi viene subito perché io ci ho messo tantissimo tempo imparare a fare i colombini anche se sembra una cavolata invece non è facile allora abbiamo la nostra base piccolina andiamo a mettere il primo colombino allora abbiamo bisogno di un bicchiere d'acqua e la nostra base, i colombini e poi di questo nuovo strumento che non avevamo ancora visto che è la stecca per unire i colombini mettiamo un po' d'acqua e cominciamo a mettere il nostro colombino qua facciamo così, potete farlo anche con la stecca seguiamo girando ok, abbiamo fatto il giro della circonferenza abbiamo questo primo colombino vi faccio vedere come si unisce così allora si mette un dito dentro deve essere un movimento molto molto delicato nel senso che questo dito non deve sentirlo proprio questo movimento altrimenti si va proprio a modificare la modellazione e si uniscono ne mettiamo un altro mettiamo un pochino d'acqua non dobbiamo bagnarlo troppo visto che noi stiamo facendo un vaso che verrà tondo così, ma molto più piccolo il colombino non dobbiamo metterlo dritto uno sopra l'altro altrimenti verrebbe un tubo dobbiamo cercare di allargarlo quindi lo mettiamo un po', vedete, un po' spostato così si deve vedere questa scanalatura tra i due e proseguiamo così possiamo anche mettere già due colombini uno sopra l'altro facciamo alternato qui la congiunzione è qui quindi adesso la mettiamo da quest'altra parte in modo tale che non vengono solo apposte vedete che sembra come un vortice perché stiamo andando ad allargarci qui possiamo fare già la prima congiunzione ovviamente vi dico una cosa che poi dopo cioè, ve ne accorgerete anche voi è un po' difficile con il colombino che il vaso venga esattamente perfetto diciamo, dritto e perfetto bisogna essere molto molto precisi cosa che io magari non sono ma i vasi a colombino mi vengono tutti un po' stortini ed è la cosa proprio che mi piace in alternativa se si vogliono i vasi diciamo, tutti regolari si possono fare con il tornio quando comincia a essere un pochino più grande io magari, adesso comincio subito faccio colombino per colombino perché ho paura che poi dopo mi sfugga un po' di mano la situazione e venga fuori una forma che non visto che mi è capitato molte volte una forma che non volevo ovviamente la mano anche quando lo facciamo dentro l'unione deve essere deve accompagnare sempre il movimento adesso che qua ho un po' più di spazio di respiro andiamo a rinforzare proprio la base anche se l'abbiamo fatta comunque bella cicciottina andiamo a unire questi due pezzi quindi facciamo un colombino piccoletto poi qua è anche molto molto piccolo andiamo a mettere un poca poca acqua e facciamo questa cosa mettiamo un colombino dentro un colombino minuscolo praticamente poi dipende sempre appunto dalla base che abbiamo scelto se la base è più grande il colombino è più grande ok poi praticamente lo dividiamo a metà con questo movimento così perché una parte la stendiamo sopra così questa metà ok e una parte sotto ok adesso possiamo anche già che siamo a questo punto andare a ad allisciare diciamo con le dita quello che abbiamo fatto è abbastanza importante che anche dentro sia ben liscio non solo fuori e dentro si può fare con le dita fuori adesso vi mostro come vi dicevo che dentro deve essere liscio il più possibile diciamo perché poi dopo quando andremo a mettere lo smalto trasparente la cosiddetta cristallina che io personalmente odio ma è anche molto bella la odio perché è difficile da mettere all'inizio è proprio fa paura un po' perché bisogna stare molto attenti però dà soddisfazione perché è quello che rende il vaso lucido così questa è stata smaltata sopra con questa cristallina trasparente si fa nella seconda cottura quindi noi ancora qua non la vedremo e quando andiamo a mettere questa cristallina se dentro diciamo ha delle parti ruvide la cristallina non attacca bene e quindi questo rende il vaso non ben impermeabile dentro se tu puoi andare a mettere dell'acqua per magari i fiori o quello che volete oppure un bicchiere o una tazza dentro deve essere appunto bella liscia così la cristallina si aggrappa bene e la rende impermeabile questo è un altro strumento che sto per usare può essere acquistato sono i reni appunto per allisciare allora questo appunto io lo uso molto potete però in alternativa anche usare delle carte di credito vecchie tessere della palestra del cono del supermercato quello che volete perché è praticamente la stessa cosa però se vi serve la parte tonda appunto forse questo è meglio quindi andate proprio a lisciare in questo modo andiamo a ritornare dritti per fare la curva quindi questo colombino adesso lo metteremo invece che così quindi aperto torniamo a metterlo dentro anche quando andiamo a steccare i colombini cioè dobbiamo tenere sempre conto di quello che stiamo facendo cioè se adesso non ci stiamo più allargando comunque possiamo agevolare anche questa cosa con la steccatura quindi la dobbiamo fare dritta adesso grazie a tutti Grazie a tutti. Andiamo a steccare anche in questo caso, allora la mano adesso non la metto più così, insomma la metto così perché sto andando in dentro, devo sempre tenerla qua sempre molto delicato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, messo l'ultimo colombino abbiamo questo risultato qua. Prima di andare a mettere il collo, quindi tornare dritti, facciamo questa bella lisciatura. Grazie a tutti. Adesso ho messo il primo colombino. Dritto, l'altro colombino. Stiamo facendo il collo, è una parte molto carina, a me piace mettere il collo perché quando metti il collo cominci proprio a vedere come sta avvenendo, cioè come viene davvero il vaso perché è quasi finito. E poi gli da quello che c'è, dai, di più vasoso. Vedete già, ma è diverso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi, allora, questa cosa finale, a me in genere non piace molto così. Mi piace quando la fine è un po' sottilina. Quindi io personalmente lo schiaccio, poi dopo voi insomma farete quello che mi pare. Quando il vaso, diciamo, è finito, poi potete fargli tutte le modifiche che vi piacciono. No, a me piace che questo sia un po' petaloso, ecco. Quindi io lo schiaccio alla fine, lo faccio anche un po' andare in fuori. Ecco qua. Meglio, no? Ok, il vaso per adesso, diciamo, è finito. Dobbiamo metterlo ad asciugare. Quindi, quindi, che si fa? Si prende un pezzetto di legno, diciamo una tavoletta di legno. Vi faccio vedere solo questa cosa. Con questo strumento qui lo dovete tagliare perché si è rafficcicato adesso. Quindi prendete il vaso, mettete una bella busta. Come vi ho detto, è meglio se lo mettete in cantina o in una zona della casa che non è molto calda, perché si deve seccare lentamente. Ok, ho parlato in interrottamente come se fossi una di quelle americane che fanno i video per fare la ginnastica e parano, 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 non so come fanno, a sudare, a fare ginnastica, a parlare contemporaneamente, ma l'ho fatto anche io adesso, quindi è da un po' che mi fa. E niente, ci vediamo alla prossima quando facciamo la decorazione. Grazie. Eccoci. Roby, ci senti? L'audio, già devi riazzurrare l'audio. Eccomi. Mi sentite bene però, internet per adesso va? Ok. Sì. Ok, ok. Bene. Allora, intanto grazie perché hai girato un super video. Ho provato. Hai tutto cercato di restringere. No, ma sei stata brava, figurati. Anzi, ci vuoi raccontare un po' come nasce la passione per la ceramica? Allora, sì, certo. Diciamo che è stato un po' destino, perché qualche anno fa, penso tre, quattro anni fa, in Accademia ho avuto la fortuna di vincere questo corso per curatori al Museo Carlo Zauli. Il Museo Carlo Zauli è a Faenza, è un museo dedicato all'operato di Carlo Zauli, che è stato un ceramista, uno scultore faentino, molto importante e famoso. Il figlio ha fondato questo museo e fa anche della ceramica, cioè espone anche, fanno eventi di ceramica contemporanea. Quindi io, completamente ignorante sull'argomento, mi sono ritrovata a conoscere un nuovo mondo, che in realtà è molto, molto appassionante. Infatti, da quello che so, tantissima gente si sta piano piano appassionando alla ceramica. Da lì io ho fatto un corso per curatori, quindi ero sempre nella didattica, nella comunicazione e non mi azzardavo in realtà a metterci mano da operatrice ceramista. Ho continuato un pochino così, in questo settore della comunicazione, dopodiché non ce l'ho fatta più, ho strippato, insomma, e ho voluto cominciare a fare proprio dei corsi di ceramica. E lì, corsi, su corsi, su corsi, alla fine ho avuto l'occasione di fare un tirocinio da Fiorenza Pancino, che è un'artista meravigliosa. Anche lei a Faenza, perché Faenza è un centro importantissimo per la ceramica. E lei mi ha insegnato moltissimo, dopo i corsi che ho fatto, i vari workshop che ho fatto, lei è stata proprio la ciliegina sulla torta, perché lei mi ha fatto fare delle cose molto belle, mi ha insegnato moltissimo. Quindi, ecco, la passione è nata così, da completamente ignorante, cioè, addirittura io quando ho vinto il corso per curatori, mi immaginavo, che ne so, che cosa può essere l'arte della ceramica. Noi siamo abituati a tazzine, non so, basi di terracotta, eccetera, e non assolutamente io ignoravo tutto il mondo dell'arte contemporanea, della scultura ceramica, che invece poi ho cominciato ad approfondire da un mondo veramente meraviglioso. Tra l'altro la ceramica ha, come dicevo prima, è un mondo infinito, cioè, se sei tu di base un artista, una persona che, vabbè, come di base tutti gli artisti dovrebbero fare e sono, in continua ricerca, quindi una continua ricerca della ricerca, quindi che non si sentono mai di essere arrivati. Quindi, la ceramica ti offre la possibilità di non essere mai arrivato, perché ha talmente tante sfaccettature, tante tecniche, tanti materiali, che veramente non bastano una vita, secondo me, per impararli tutti. Mia, Nadio? Ci si sente. Grazie, Robby. Sì, sì, infatti, immagino, io personalmente non so nulla sulla ceramica e devo dire che sembra super interessante, anzi, ti viene voglia, soprattutto, probabilmente anche per quello ti è scattato a te questa cosa, quando magari hai a che fare con un lavoro sempre intellettuale, a volte magari metterti lì proprio a impastare con le mani, che sia cibo, che sia ceramica, argilla, che sia qualcosa, magari di cambiare anche prospettiva e probabilmente ti rilassa anche, immagini, no? La ceramica è super rilassante. Poi, vabbè, l'arte a un certo punto, quando diventa anche un po', ti mette un po' sotto pressione, non è più rilassante niente, ma la ceramica, devo dire, che ha questo potere, anche perché ti mette in contatto, la ceramica, l'argilla proprio, in generale, ti mette in contatto con, è proprio una cosa scientifica, ti mette in contatto con la manipolazione di un materiale naturale, quindi, proprio, mette in atto un meccanismo di, sì, di rilassamento, quindi fa anche questo. Scusate, mi ricordo una domanda un po' più tecnica, ma per chi, tecnica, tra virgolette, per chi fosse interessato e volesse provare, anche, insomma, stimolato dal video, anche, ovviamente, la prima cosa che ti viene da fare è provare a rifarlo subito, secondo me. Gli strumenti, il materiale che serve, dove si può reperire? Ora, capisco che la situazione sia, insomma, un po' complicata, a seconda delle regioni in cui ci troviamo. Esistono dei siti dedicati dove si possono trovare dei materiali o, insomma, gli strumenti che hai utilizzato anche nel video? Allora, i siti ci sono, certamente ci sono, a parte che nel periodo di lockdown che abbiamo già avuto, anche io mi sono ritrovata a dover comprare online dei materiali, quelli base, anche solo l'argilla. Diciamo che l'argilla è la cosa più difficile da reperire se sei in casa, perché i vari strumenti come, per esempio, la stecca che avete visto prima, vabbè, i pennelli, mesticheria, Amazon, quello che volete, le stecca, la spugnetta, tante cose che sono. Alcune si possono reperire in casa, come la spugna, che poi non ho fatto vedere perché si usa. Il rene, come vi ho detto, si può usare le tessere, quindi quello va bene. La stecca è un po' difficile da farsi in casa, questa si può comprare sia sui siti online, non voglio fare troppo, sponsorizzare troppo Amazon, però si può trovare su Amazon. Anche su tutti i siti, che si sono attrezzati per fare, per fare appunto, l'ordine online. Da Frenza, perché da Frenza parte tutto il mondo ceramico, c'è Ceramica & Colors che effettua anche l'ordine online e possono comprare gli smalti, come la cristallina, si possono comprare anche tutte le varie strumentazioni. Però l'unica cosa che consiglio è di stare un po' attenti perché, da una parte, proprio la moda del momento di fare ceramica, diciamo, salzando un po' i prezzi, diciamo così, di fare un po' attenzione perché ci sono dei kit già pronti che, a mio avviso, sono abbastanza inutili. Perché a parte che ti trovi dei strumenti che magari a te personalmente neanche ti interessano, primo perché bisogna capire che cosa devi fare, che cosa vuoi fare. Gli strumenti basi sono sempre gli stessi, sono questa, tutta, che ha il massimo di un ruolo, più l'argina ovviamente che serve materiale base, la materia prima, però si possono comprare singolarmente, così come i pennelli. Si risparmia facendo così. Perché i kit costano tantissimo, invece se li compri singolarmente magari costano di meno. Per l'argilla è un po' più complicato perché l'argilla, se te la devono magari consigliare a casa, la vendono in blocchi 50 kg, 25 kg. Magari se una le prime armi non serve tutta quell'argilla, neanche io compro 50 kg d'argilla a volta. Altrimenti, cosa che io ho fatto, ti mandano dei, cioè puoi acquistare dei pacchetti da un chilo, costano molto di più. Però, se proprio siamo chiusi in casa e ci sarà un nuovo lockdown, oppure qualcuno è in zona rossa e non può fare altrimenti, si può fare così. Quindi, un pacchetto costa intorno ai 5 euro, un pacchetto 3, 6 argilla rossa, 5, 6 argilla bianca, un pacchetto da un chilo. Altrimenti, per chi è a Bologna e vuole comprare, acquistare l'argilla in pacchi da 5 kg, 15 kg, nipoti inviade la Beverara e dove vado a comprare l'argilla io. Si va in macchina perché si prende un po' di argilla. Attenti a non comprarne tantissima subito perché l'argilla si secca, quindi va tenuta una volta aperta con uno straccio bagnato e sopra va messa una busta di plastica, così che l'aria non entra o comunque rimane sempre un po' umida. Se, appunto, però non la utilizzate, la utilizzate molto raramente, lo lasciate lì, forse è meglio comprare un pacchetto piccolo direttamente. Ok, grazie. Invece ti volevo chiedere la seconda parte del lavoro, cioè tutta la lavorazione dell'argilla e poi c'è la decorazione. Sì, allora, io sono un po' dispiaciuta che non mi sono potuta mettere nel laboratorio dove ho anche girato il video, ma lì non va con internet scoperto. Quindi mi sono portata tutte le cosine qua in cucina, io non so se così si vede un po'. Sì, sì, si vede. Allora, questo è il vaso che ho fatto nel video, a questo punto è diventato, si è seccato, ci sono varie fasi di essiccazione, e la prima si chiama la fase con la durezza oio, quando diciamo il manufatto che abbiamo fatto di argilla è ancora un pochino bagnato. Quando diventa così, che è molto più chiaro ed è proprio duro, ma non è ancora cotto ovviamente, si chiama osso. Quando è a questo grado di essiccazione, non si può più modificare, non si può farlo, si rompe, è un guaio, perché non si può, cioè è morto, si può, ma è difficilissimo ripararlo. Quando noi abbiamo ottenuto questo, e mi raccomando, come ho detto nel video, sempre, cioè non tenetelo vicino a fonti di calore, perché l'argilla si deve seccare in maniera lenta e navale, potete anche coprirlo magari con un lenzuolino, insomma, con un pezzo di stoffa, di cotone. Dopodiché prendete una spugnetta, io ho questa, però va bene anche la spugnetta per lavare i piatti nella parte gialla, oppure la gomma piuma, insomma, va bene tutto. Usate una bacinellina, insomma, un contenitore con dell'acqua, immergete la spugna e poi la strizzate benissimo, perché deve essere soltanto umida. Con questa spugna, io già l'ho fatto un pochino, dovete andare a togliere tutte le imperfezioni. Ovviamente voi non vedete, ma questo vaso è pieno di imperfezioni, io già l'ho fatto un pochino prima, per accelerare i tempi. Quando siete soddisfatti che vedete che il vasino adesso è più liscio, possiamo decorarlo. Allora, diciamo che adesso va bene, che l'ho già fatto. Dimmi, non mi si sente più? No, no, ti sentiamo, però il video va un po' a scatti, quindi adesso non vediamo, si è fermato tipo a un frame precedente, quindi è un attimo, però vabbè, può succedere. No, però ti sentiamo, vabbè, tanto magari adesso si, ma l'ha fatto anche prima, ma non ti preoccupare, adesso va un po' a scatti. Però vabbè, tu continua. Ok, e magari descrivici bene i passaggi, come se non li vedessimo, così almeno nel dubbio. Allora, sì, dov'è che eravate rimaste? Ho allisciato il vaso con la spugnetta. C'è molta attenzione a non bagnare troppo nello stesso punto, perché il vaso non deve assorbire l'acqua, perché se assorbe l'acqua, poi si spacca. Quindi, deve essere un movimento abbastanza veloce, più che altro bisogna cambiare il punto molto rapidamente, e non ripassare la spugnetta se vediamo che ancora è bagnato. Adesso io l'ho fatto già un pochino prima, quindi diciamo che il vaso va bene così, quindi vi faccio direttamente vedere gli strumenti, se si vede. Adesso mi muovo, oppure no? Sì, è bloccata. Vi faccio vedere gli strumenti per fare la tecnica dell'engobbio. L'engobbio è praticamente un colore per ceramica che si ottiene con delle polveri coloranti naturali, e non, e la barbottina. La barbottina altro non è che la pasta dell'argilla diluita con acqua. Quindi, pasta dell'argilla diluita con acqua, con polveri, si mescola insieme e si ottiene l'engobbio. Questo si può anche comprare, come faccio io, già pronto. Io utilizzo questo qua, della colorobbia. Diciamo che non è molto economico e quando, ovviamente, è così un po' con tutto, quando si utilizza in grandi quantità, i ceramisti se lo fanno da soli. Questo era nuovo, perché l'altro l'ho finito, ed è a fare proprio come un colore acrilico. E' così. Mi muovo? Allora, la tecnica che io faccio, vi faccio vedere degli esempi, perché con l'engobbio si possono fare varie cose. Si utilizza sul vaso che non è ancora cotto, quindi questo, come abbiamo questo vasetto qua, che abbiamo in durezza osso, o anche a durezza cuoio. Poi, si possono usare vari strumenti. Si può usare il pennello, vi faccio vedere, ad esempio, questo qua, che questo è finito e anche smaltato, che è un mio vasetto, l'ho fatto col pennello e l'engobbio nero. Oppure, si possono usare degli strumenti qualsiasi, nel senso che tutti gli strumenti che vanno a creare un'incisione o vanno a creare un'impronta o vanno a creare una pittura sul vaso, si possono usare. È proprio sfogo alla fantasia. Io qua per questo ho utilizzato la punta piatta del pennello, di questo pennello qua, l'ho utilizzato per fare le vignette. E invece i pallini li ho fatti con un pennello rotto, che aveva soltanto, non aveva più i peli, il pelo, insomma, e sono andata a imprimere, cioè ho intinto nell'engobbio e sono andata a imprimere nel vaso, che non era ancora cotto, e insomma creava questi pallini qua. Questo è cotto. Allora, adesso è bloccato. Si è bloccato, però quello con i pallini lo vediamo. Ok. Altrimenti... Adesso mi sono sbloccata? Mi dispiace? No. Mi dispiace proprio. Non ti preoccupare, figurati. Allora, adesso si è sbloccato. Allora, questo invece, così come l'altro che vi ho fatto vedere, questi sono dipinti e poi dopo sono andata a fare la tecnica del graffio, dell'engobbio graffiato. Come ho fatto? Ve lo posso far vedere. Sul vaso, che non è ancora cotto, io faccio una figura. In teoria voi potreste anche prepararvi prima il disegno con la matita, facendo attenzione a non calcare, cioè quindi a non lasciare il segno sull'argilla, che non è sull'argilla fresca, diciamo, non cotta. Però la matita in cottura evapora, scompare. Quindi, se siete molto, molto leggeri, potete prepararvi anche un disegno a matita, per poi sovrannarci con il pennello. Io adesso faccio la mia solita figura. Che noi non vediamo, però ci vediamo. No, ve la faccio vedere adesso. Ci senti, Roby? Sì, sì, vi sento. Ok. Perché qui rimane bloccato. Faccio solo un pezzettino. Eh, si è incantato il video. Non so se conviene, magari Roberto faccia un refresh della pagina, vediamo se riparte meglio. Sì, cambio anche magari... Adesso ti vediamo. Adesso ti vediamo. Mi vedete? Sì. Ok. Allora, ho fatto solo un pezzettino qua, un pezzettino di donnina, che io di solito faccio. è solo per farvi vedere un attimo la tecnica. Ho dipinto con l'engobbio e poi vado a fare un'incisione con questo punteruolo, che è un altro strumento molto utile per me, poi dipende sempre di tecnica farete voi di decorazione. E si va semplicemente a incidere il colore. Io creo una linea. Vedete? La vedete? La vediamo. Adesso... Si è incantato. Si è incantato? Sì. Ma dai, non ci posso credere. Non si capisce. Sentiamo benissimo la tua voce, ma si blocca il video. Tu refresh. Ok. Mia, intanto vuoi sfruttare questo spazio pubblicitario per... non so, per fare il prossimo incontro, quelle cose che faremo? Allora, beh, intanto magari volendo nei commenti posso aggiungere anche il link di Roberta al suo nuovo sito, che è uscito da poco. Quindi, mentre che lei refresha, facciamo vedere a tutti il suo sito, che è molto carino. e ve lo metto sui commenti. Allora. Mi aveva messo anche, per chi l'ha perso, il link dove acquistare i materiali, uno dei siti che aveva detto Roberta prima. Sì, esatto. Se siete curiosi, se volete provare... credo che stia rifresciando Roberta. Ok. Mettiamo anche così, facciamo pubblicità giustamente, il suo account Instagram. Spazio pubblicitario. Eh beh, sono giovani artisti, è giusto raccontare chi sono e cosa fanno, quindi ci sto. Allora, anche questo. Ok. Aspettiamo un attimo. Comunque poi ci sarà la diretta, direttamente messa su YouTube, no? Perché si fosse perso l'inizio? Sì, il video sarà messo, cioè sarà, si ritroverà sia sui video della pagina Facebook, e poi verrà caricato anche sulla playlist YouTube sempre di Flash Giovani. Quello sì, quindi poi chi vuole potrà rivederti. Allora, ti sentiamo, però vederti... No, sei ancora bloccata. È incredibile. Se no, aspetta, provo a toglierti, ti rimetto un seguito. Aspetta, ok, ora sì, ora sì, ora ti vediamo. Rimetti l'audio, però? Ok. Mi vedete? Sì, sì, mi dispiace, tra l'altro sto usando sia l'Hotspot che il Wi-Fi, nessuno dei due sembra andare. Non ti aiuta nessuno, è proprio così oggi. Sì, sì, ora sì, non ti preoccupare. Ok, ci stavi facendo vedere l'incisione. Allora, ho fatto questa incisione, adesso non faccio tutto il disegno, era solo per far vedere che io ho dipinto con l'engobbio e poi sono andata a incidere proprio sopra. Quindi, ho fatto questa operazione, sono così. Ok, sì, si vede, si vede, si vede. Io lo graffo in questo modo, poi vabbè, ovviamente si vede meglio qui, viene, e questo è il risultato. tutte le parti bianche sono quelle che ho inciso e il nero è l'engobbio. E tu in questo modo hai creato praticamente il contorno... in questo modo hai creato il contorno della figura. Ci senti, Roby? Non vi sento a voi stavolta. Niente, già così. Ci senti? Roby? Sì, io di Wi-Fi. Beh, non ti preoccupare, noi ti sentiamo, tu vai avanti. Procedi. si è ribloccato. Ok. Puoi procedere, rimettiti l'audio e puoi andare avanti. Dicevo che se eravamo arrivati alla durezza che è questa, osso, che abbiamo, quindi abbiamo passato la spugna e abbiamo cominciato a fare la tecnica dell'engobbio, quindi la decorazione di pinta. Poi dopo si fa la prima cottura. Io oggi sono andata a ritirare al forno dei vasi a cui ho fatto fare la prima cottura che sono questo. Vabbè, alcuni vasi. Non lo vediamo, Roby. Questo va. Non ci senti? mi sentite? Sì, ma non ci vediamo. Vabbè, io parlo, tanto non fa niente, ve li ho fatti vedere prima. Praticamente, ho fatto fare la prima cottura al basso e dopodiché si fa la seconda cottura per mettere lo smalto, lo smalto in generale. io al momento metto lo smalto trasparente che si chiama cristallina. Questo smalto può essere applicato in base e può essere applicato a spruzzo, può essere immerso, a immersione, il vaso viene immerso in un contenitore pieno di cristallina oppure per aspersione, quindi, la cristallina viene gettata sul vaso. Queste sono le tre tecniche che sono abbastanza complesse, nel senso che è una cosa un po' obbligosa da fare perché la cristallina è trasparente ma se non si sta bene attenti e se ne mette troppa crea uno strato un po' opaco, un po' lattiginoso e quindi non dà quella lucentezza e la trasparenza che invece si vuole ottenere. La seconda è i salti, la temperatura leggermente più bassa, dopodiché il vaso è che si chiama biscotto e la seconda cottura per l'olio. Roby, ci senti? Sì. Ok, adesso si saltava anche un po' l'audio. Niente, oggi oggi è così, dobbiamo fare pace con questo, oggi è un po' così, vabbè. E' normale che ho fatto il video così almeno quello è andato tutto liscio. Infatti sì, non ti preoccupare. Raccontaci un po' anche come, cioè, cosa stai facendo adesso, ci stavi, ci hai accennato, almeno a me avevi accennato appunto del, stai avviando la tua attività, quindi raccontaci un po' anche per dare dei consigli magari ad altri ragazzi che sia che sia nell'ambito della ceramica o altri artisti che vogliono iniziare a fare qualcosa individualmente, che consigli potresti darli? Allora, sì, io al momento sto cercando di professionalizzare diciamo questa passione per la ceramica e per la pittura in generale perché in ogni caso per me la ceramica è anche una base su cui dipingere perché in realtà io parto come pittrice, illustratrice, quindi queste due passioni sto cercando appunto di professionalizzarle il problema che si pone che pone la ceramica cioè sono due diciamo dal punto di vista della ceramica sono le strumentazioni le strumentazioni per la ceramica sono un po' costose quindi quindi io personalmente sto cercando appunto di chiedere un finanziamento per per comprare per acquistare le strumentazioni come il forno e come il macchinario per il macchinario per l'aerografo diciamo per dare la cristallina e lo smalto e anche tutti gli altri materiali gli smalti l'argilla la varia strumentazione e questo purtroppo è una cosa che va che va cioè non mollare cercare appunto di trovare un escamotaggio comunque un modo per arrivare ad acquistare intanto questi macchinari ci sono dei bandi ci sono si può fare un crowdfunding magari una perché c'è una disponibilità personale dopodiché quando si ha si hanno queste strumentazioni si può fare una produzione un po' più abbondante un po' più consistente diciamo e dal punto di vista però con me appunto mi hanno ah poi una cosa che io consiglio è fare tante domande cioè andare un po' a interrogare quelle persone che più di me ovviamente sono già quelle persone che sono veramente dei professionisti dei ceramisti già avviati e come hanno fatto per avviare la loro attività perché è di insegnamento capire anche loro come sono partiti molte persone hanno cominciato con il loro laboratorio nel garage o dentro casa oppure non so in uno spazio condiviso e quindi questo questo aiuta molto capire le esperienze delle altre persone per cercare dei modi per organizzarsi ecco ci sono delle cose tecniche a cui bisogna far conto tipo il forno che non può essere appunto magari allacciato dappertutto tipo io qui in garage o nella veranda non posso mettere il forno perché c'è da fare tutto un controllo del quadro elettrico c'è un allacciamento speciale e tutto quindi ci sono delle cose a cui bisogna far fronte anche più tecniche però piano piano si riesce a far tutto secondo me poi ve lo dirò quando avrò tutto il laboratorio fatto e finito però per adesso poi soprattutto cioè non bisogna battersi a dire ah non ho il forno non faccio ceramica io per adesso che sto ancora acquistando il forno però vado a far informare le cose da da questi da queste associazioni o appunto aziende di famiglia che hanno i forni che fanno proprio il servizio di cottura c'è il nipote in via della che fa che fa questo servizio quello che ho già indicato per comprare l'agilla e ci sono anche Bologna che hanno il servizio di cottura l'associazione Alba e c'è c'è BAT che si trova invece a Casalezio tutti questi centri fanno il servizio di cottura stanno cominciando se avete domande si sentiva puoi ripetere i nomi dei posti che non si sono sentiti allora i posti dove andare a cuocere che conosco io e poi ovviamente se qualcun altro li conosce li può anche indicare nei commenti allora c'è Nipoti in via della Beverara che fa questo servizio ha dei forni grandissimi poi c'è l'associazione Alba che è una scuola di ceramica io personalmente non l'ho mai cotto lì ma li ho sentiti sono carinissimi e so che fanno questo servizio non ci sono mai andata perché ero un po' lontano e poi c'è BAC che è il mio forno di fiducia che organizza anche corsi di ceramica si trova a Casalecchio e fa il servizio di cottura degli oggetti di ceramica l'unica cosa un po' diciamo che un po' destabilizzare un po' può rallentare un po' la produzione è che tutti loro ovviamente fanno le cotture una volta a settimana quindi per questo a un certo punto quando si è capito cosa si vuole fare se veramente si vuole intraprendere questo tipo di percorso il consiglio è quello di acquistare il forno come sto facendo io perché altrimenti questo rallenta molto la produzione perché bisogna stare ovviamente ai loro tempi una volta a settimana poi come avete visto comunque le ceramiche hanno gli oggetti hanno bisogno di due cotture quindi una cottura una settimana la seconda cottura l'altra settimana quindi ci metti due settimane certo e invece stiamo anche raccontando del tuo sito ci racconti un po' come l'hai organizzato è molto carino intanto quindi abbiamo già messo sui commenti il link al tuo sito per farlo vedere a chi magari è interessato di quello di cui ti occupi tu ma posso fare posso dire che posso fare pubblicità sì certo è la tua attività non su di me di dire che cosa ho utilizzato per fare il sito la piattaforma sì se vuoi dare dei consigli anche magari altri artisti che come te si occupano insomma anche dal lato po' artigianale delle cose certo allora sì certo allora diciamo che se si vuole fare un sito con la parte anche di e-commerce come serviva a me io mi sono un po' informata ho fatto qualche corso online anche gratuiti ci sono anche dei video su youtube che ti spiegano magari qual è qual è il modo più opportuno e più efficace per fare delle vendite online alla fine io ho deciso di utilizzare shopify un servizio a pagamento per realizzare questi siti internet di e-commerce mi è sembrato quello più sì più efficace più più carino sicuramente ce ne sono anche altri di questi di queste piattaforme questo ha un costo mensile mi sentite ah no ok sì perfetto ha un costo mensile poi funziona un po' come come Wix e come anche Wordpress bisogna avere delle basi di conoscenza di come si dice informatica di web design sicuramente perché perché poi insomma i contenuti e la costruzione del video e il sito e il tema del sito insomma devi scegliere tu le devi fare tu c'è anche un servizio di assistenza per questo però mi sembra sia a pagamento quindi è una cosa in più io avevo qualche nozione di web design faccio i siti in Wordpress cosa che farò anche non l'ho fatto al momento perché in Wordpress avrei dovuto aggiungere il plugin per fare l'e-commerce visto che non sono capaci di fare questa cosa ho preferito magari appoggiarmi per adesso a un a una piattaforma già professionale che si occupa di questo c'è anche la parte del blog cui io tengo molto sia la parte appunto dei prodotti che sono divisi anche per collezioni e poi c'è la parte del blog in cui scriverò tutti gli aggiornamenti ho già scritto qualcosina e sarà la parte più più intima che vorrei avere con voi insomma con chi visiterà il sito e c'è anche una sezione dedicata al workshop no? adesso ovviamente non è il momento più adatto però vuol dire che in futuro ci sarà la possibilità di fare questi incontri in maniera più approfondita con te sicuramente la mia intenzione è quella di fare dei video tutorial magari registrati perché mi sembra che l'internet non vada molto bene però sicuramente li carico già pronti dei piccoli tutorial appunto di ceramiche non solo perché l'atelier nasce con l'idea di fare arte fare arte artigianato artistico quindi non ci fermeremo proprio al plurale perché nasce anche come idea di community di comunità e di vari artisti che collaborano insieme insieme a me quindi ci saranno anche dei tutorial di ceramica di istruzione di lettura spero di serigrafia di cucito e presto ci saranno tantissimi contenuti ecco e questa è la parte che ci sarà nel blog che ho chiamato Fresh perché ci saranno tutte le news e i nuovi tutorial e sì questa cosa della collaborazione con con altri con altre professionalità del mondo dell'artigianato artistico già si vede un po' nei prodotti perché ho cominciato con la professionista più brava del mondo la salta più brava del mondo che è mia madre insieme a lei abbiamo fatto una collaborazione e abbiamo realizzato le borse e i grembiuli io le ho disegnate sempre con lo stile dell'atelier quindi con queste con queste figure che io faccio un po' minimal e lei sul mio disegno ha cucito le borse e ha realizzato i grembiuli stiamo stiamo anche preparando delle altre cose già è bellissimo infatti infatti li stavo vedendo e invece ad esempio i gioielli li hai realizzati con altre persone o sempre da sola? no i gioielli li ho i gioielli li ho fatti io ma ben venga se qualche qualcuno vuole collaborare e vuole magari ha delle è un come si dice un orefice non so come gioielliere adesso viene il termine diciamo che realizza dei gioielli metallo acciaio oro argento quello che volete potrebbe essere molto molto bello collaborare e quindi realizzare dei gioielli in ceramica e in altri materiali però per adesso sono tutti sono tutti in ceramica c'è anche ho realizzato anche delle cose con con del legno con un ragazzo che che realizza che c'è un falegname molto bravo per adesso abbiamo fatto soltanto la basetta di quella figura giapponese che prima si vedeva c'è quella base in legno d'acero che è molto molto bella l'ha fatta lui con il tornio però avevamo in mente anche di realizzare delle altre cose dei tavoli in legno e ceramica delle cose molto belle mi piace l'idea di collaborare per me è come si dice è molto mi entusiasma molto quindi è anche un invito insomma a a farsi avanti in quel modo di collaborare tanto abbiamo lasciato Mianu ha messo anche il tuo account Instagram quindi qualsiasi cosa sei reperibile per tutti io non so se ci sono domande ma non mi sembra il tuo video è stato chiarissimo evidentemente nonostante gli salti di connessione però sì mi dispiace molto per questo problema della linea ma in realtà io ho fatto anche altri cioè altri video così live non saltava quindi purtroppo è proprio sfortuna non ti preoccupare Robby era legge di Marfi ovviamente funziona così comunque ci saranno però altri altri tutorial poi qualsiasi domanda qualsiasi sto cominciando a diventare molto social su Instagram quindi ci sarò l'occasione di farmi domande parlare e caricherò anche appunto come detto degli altri piccoli tutorial non saranno delle lezioni così lunghe tutte insieme diciamo perché qui abbiamo fatto proprio un baso modellato con la tecnica del colombino ho fatto vedere la tecnica in sintesi e poi ancora la tecnica dell'engobbio abbiamo parlato delle varie magari con i tutorial che le caricherò saranno delle pillole di ceramica a base certo comunque un stimolo anche per qualcuno che magari scopre una passione oggi vedendo questo video può essere interessante per continuare o per iniziare non uno strano in più certo infatti ma infatti Robby una domanda secondo te ognuno ovviamente ha il suo percorso con cui arriva poi a scegliere determinate cose ma se dovesse esserci non so un ragazzo che magari non ha interesse per la ceramica ma non sa come iniziare secondo te potrebbe seguire dei percorsi tipo quelli che hai seguito tu o ne hai trovati altri anche dopo che però non hai seguito ma ti sarebbe piaciuto hai qualche consiglio anche in questo? sicuramente se una persona vuole iniziare e non ha proprio nessuna nozione è bene che faccia un corso è bene che faccia un corso di ceramica base perché l'imprinting iniziale deve essere deve essere quello non so se alcune persone hanno anche imparato con dei tutorial non è il mio caso io sinceramente rifarei i corsi che ho fatto ne ho fatti vanno fatti vari corsi o si segue sempre lo stesso corso con la stessa insegnante però è bene anche fare magari delle esperienze diverse perché ovviamente ogni insegnante è un artista che ha la sua magari attitudine quindi è bene magari anche cambiare un po' o seguire più corsi per per capire qual è la tecnica in realtà che gli servizio ci sono tantissime tecniche non abbiamo parlato della tecnica Raku che io personalmente non ho mai fatto cioè ho fatto tantissimi anni fa un assaggio quindi so di cosa si tratta ma non la faccio io ad ora e la tecnica Raku già è un mondo completamente a parte ci sono dei ceramisti ad esempio che fanno solo quella quindi magari qualcuno si riscopre Raku o magari qualcuno si scopre più minimal o gli piace utilizzare gli smalti io al momento faccio l'engobbio e ad esempio al mio mentore di Faenza l'artista di cui vi ho parlato prima lei l'engobbio non lo faceva utilizzava un'altra tecnica che è la maiolica dipinta con il colore per smalto utilizzava gli smalti quindi già quello è proprio un altro mondo a parte quindi è bene fare magari più corsi per capire qual è la propria attitudine ecco poi sempre approfondire quello viene da sé se si ha la passione sempre approfondire con i social con Instagram leggere riviste siti internet andare a vedere gli artisti ceramisti sparsi in tutto il mondo quello che fanno se si vuole vendere anche fare proprio un'analisi di mercato e vedere cosa vendono che cosa piace i prezzi poi vabbè questo è ancora un'altra un'altra fitta di un altro argomento certo grazie mille Roby avete altre domande ci sono non so anche ceci è interessantissimo anche io è un mondo che veramente mi è sempre affascinato quando non ho mai avuto il coraggio di di approcciare però è veramente interessante poi anche i lavori sono particolari belli e devo dire che il sito in questo rispetto molto anche i lavori che fai insomma molto minimi ma l'elegante le foto non so se le hai fatte tu che sono molto belle quindi anche questo è un'insegnazione che un'artista che si vuole vendere debba essere si conosce il proprio lavoro e poi in contemporanea sapersi fare il sito sapersi gestire la parte commerciale lo shop eccetera quindi sicuramente in questo secondo me rientra anche un po' una serie di incontri che noi avevamo fatto all'inizio cioè su commercialista la parte di autoimprenditorialità perché oggi appunto vuoi fare un lavoro devi conoscere il tuo e tutta un'altra serie di professioni che vogliono in turno a questo per sistemare queste cose per creare contenuti interessanti quindi secondo me è veramente il tuo esempio ottimo perché ma è ottimolante sotto i campi punti di vista non solo è bello a vederti quindi secondo me grazie grazie se posso se posso aggiungere una cosa se mi sentite non ascolti quello che hai detto è molto cioè sono d'accordo è molto importante ed è una questione su cui si parla moltissimo anche nel mondo ceramico proprio su questo nuovo profilo dell'artista dell'artigiano digitale perché la vecchia scuola di artigiani adesso ha veramente tanto tanto bisogno di di approcciare con tutte queste di imparare anche tutte queste nuove tecnologie che permettono anche di fare una sorta di didattica di comunicazione sui social di avere il sito internet di avere delle foto professionali c'è tutto un mondo che prima non esisteva è questa nuova figura che si chiama artigiano gli artigiani i famosi artigiani digitali che sono la nuova generazione io sono stata abbastanza agevolata e fortunata perché ho fatto proprio degli studi su questo e in parallelo invece dipingevo e facevo anche la parte pratica dell'arte diciamo quindi però per me secondo me è proprio essenziale avere entrambe le parti dentro di sé più quello l'aspetto comunicativo e l'aspetto artistico proprio come hai detto tu percorso con noi si rimane indietro e tagliati anche da una fetta di mercato quindi tocca un po' a tutti faccio fare anche aspetta un saluto alla novella dell'informa giovani novella ci senti aspetta gli metti l'audio e che stavo bene anche il corso di ceramica online è stato portato a casa dall'informa giovani molto brava Roberta grazie per chi come me non è avvezzo troppo all'informatica e all'online riuscire a capire come la trasmissione di competenze anche attraverso questo strumento per me è già una magia così grazie per questo intervento ai corsi grazie a voi dell'informa giovani tenuti insieme a Emilio Doc grazie alla Mia Nù e alla Cecilia che ci seguono in questo percorso grazie a voi grazie volevo dire una cosa in realtà perché poi mi è venuta fuori la curiosità e in realtà per chi invece non è alle prime armi ma ha comunque un percorso artistico e si vuole specializzare in questo campo della ceramica a Faenza c'è un IFTS che si chiama aspettate che ve lo dico tecnico del prodotto ceramico rivolto ai ragazzi che hanno un diploma di scuola medio superiore in ambito artistico o una laurea in ambito artistico sono ancora aperte le iscrizioni giusto fino al 17 di novembre vi ho messo nella chat il link al sito della regione al sito regionale dove si trovano i corsi di formazione ancora pochi giorni per chi è interessato già per chi è avanti nel percorso è che comunque certo però può essere utilissimo anzi assolutamente anche seguire questi corsi specializzati e soprattutto anche molto impegnativi ma giustamente come devono essere questi corsi sono corsi annuali a tempo pieno però comunque si mettono in contatto col mondo proprio delle aziende che lavorano in questo campo certo va bene allora grazie grazie a tutti per averci seguito grazie a Roberta per essere stata con noi grazie a Cecilia Novella e noi ci ritroviamo il 26 giusto avremmo con noi invece Lorenza De Luca anche con lei avremmo dovuto fare un laboratorio di persona sotto produzione e fumetto ma faremo un incontro e una chiacchierata anche con lei online quindi ci rivediamo poi il 26 novembre sempre alle 4 sulla pagina di Flash Giovani grazie a tutti grazie a tutti ciao 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 Grazie.